Volevo salutarvi perché dopo otto anni lascio questa bellissima terra di Campania e parto per Messina dove i miei superiori mi hanno mandato e lì farò ancora il mio servizio alla chiesa e alla gente che incontro. Qui è stato bello, ho accompagnato tante persone, sia in parrocchia per i sacramenti sia qui in Curia, l'accoglienza della gente, in particolare ho visto passare tanti giovani che pensano al matrimonio e che hanno cominciato a fare il loro cammino e quindi li affido al Signore sperando che la famiglia sia veramente un luogo di pace e di amore per tutti. Naturalmente tutti i sacerdoti che sono passati da qui, tutti i colleghi che lavorano in questa struttura che è la Curia, che è come un cuore un po' per la Dioce. Si ringrazia il Vescovo per la sua accoglienza, ciascuno di tutti quelli che ho conosciuto e nel mio cuore c'è scritto tutto il nome di ciascuno. Vi sarò vicino e dico a Gesù di leggere il vostro nome che è scritto nel mio cuore. Lui sa tutto e vi concederà quello che avete bisogno perché Dio non ci dà quello che noi chiediamo a volte ma ci dà quello che abbiamo bisogno. Allora io forse in questo momento avevo bisogno di partire. Quando Dio si muove vuol dire che serve alla mia santificazione. Per questo sono contenta anche se il distacco si sente perché quando si vuole bene la gente con cui si lavora è normale che si senta. Questo è tutto quello che posso dire e vi abbraccio tutti proprio con un solo abbraccio e vi porto nel mio cuore. Naturalmente Messina è la porta della Sicilia quindi se passate di là come vi ho aperto la porta qua ve la apro anche da quelle parti. Ciao!